Eccoci live da PS5, ci chiede la linea il nostro inviato da Roma per una notizia straordinaria. Eccleto, che cosa succede? Grazie Diana, come vedi alle mie spalle, qui a Via del Corso è comparsa una straordinaria Playstation 5. E come stanno reagendo le persone? I passanti sono stupiti, si fermano per farsi selfie e fare foto. Grazie Eccleto, richiedici la linea quando avrai più informazioni, ma adesso colleghiamoci con Napoli per un'altra Breaking News. Incredibile qui spiaggia, c'è un'impronta che sembra quella di un divoratono di Horizon. Wow! Sembra che da tutta Italia stiano arrivando altre notizie di invasioni legate al mondo Playstation. Se anche la tua città è coinvolta, diventa nostro reporter. Per questa edizione è tutto, grazie mille e continuate a seguirci live da PS5.